Ciao a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video oggi mi trovo a Genova la potete vedere la fontana iscrivetevi al canale di sfumatoso vi lascio il link in descrizione iscrivetevi anche al mio canale attivate la campanella e mi raccomando raggiungiamo i 600 iscritti e poi vi porto un po di live anche nel mio canale il club fatemi sapere il vostro parere vi lascio un po di immagini buona visione grazie 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 grazie